Sono veramente lieta di poter essere qui con il mio amico Angelo Mariani perché l'evento ha una duplice valenza, sicuramente la conclusione del mese Mariano, quindi con il rosario, ma un rosario diverso, un rosario all'aperto, un rosario all'interno di una cornice molto particolare, con un pianoforte, con delle musica, con un violino. Vedere un pianoforte in mezzo a delle facce sicuramente ha un fascino suo e tutto l'ambiente sicuramente sarà un evento estremamente importante, ma non è solo questo, è un evento per ricordare l'associazione Miriam per i poveri. È un'associazione alla quale il Comune è particolarmente legato, come a tutte le altre, ma questo in modo particolare, perché tutte le sere 50-60 persone bisognose vanno alla mensa e viene fornito un pasto caldo. Un pasto caldo fornito sia dall'aspetto della cucina sia dall'aspetto della somministrazione, tutto da volontari. Quindi mi complimento con i volontari di Miriam per i poveri, è fantastico, ci sono molti giovani all'interno di questo gruppo, è un ottimo lavoro, è un'ottima e grandissima risposta. Architetto Magliani, lei è rispita con una...